Ciao a tutti, Ravalter, sesto pesce leggendario, che è il grande storione leggendario, questo è il punto della mappa, è il punto da dove l'ho pescato, e dovrete usare come esca l'esca speciale da fiume. Eccolo qua, 20 kg e 87 di carne e di pesce, al prossimo pesce, ciao!